Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andiamo a vedere una partita geniale giocata dal più grande attaccante della storia degli scacchi, Mikhail Tal. In questa partita Tal gioca delle mosse veramente incredibili, inizia a sacrificare tutti i pezzi per poi andare a dare scacco matto. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo. Ormai siamo vicini ai 60.000 iscritti, dovrebbero mancare 1100 iscritti circa, ce la possiamo fare secondo me. Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e che supportano questo canale e iniziamo. Ok, eccoci qui, siamo nel 1986 a Riga in Lettonia e Mikhail Tal, soprannominato il mago di Riga, affronta con i pezzi bianchi l'Embit Hall, il campione dell'Estonia. Tal inizia con pedone E4, Hall risponde con C6, difesa Karokhan. Sappiamo che la difesa Karokhan è un sistema molto solido, quindi è molto interessante vedere Tal in azione contro la Karokhan, essendo Tal un giocatore tattico. Tal prosegue con D4, occupa il centro, Hall gioca D5. Arriva a cavallo C3, pedone per E4, cavallo per pedone. E qui rientriamo nella variante principale della Karokhan. Hall però non continua con la mossa più giocata, ovvero cavallo F6, ma gioca cavallo D7. Questa è la variante Karpov della Karokhan. Karpov, campione del mondo di scacchi, ha dato il nome a questa apertura. L'idea è di catturare poi in F6, dopo cavallo F6, se il bianco dovesse catturare, l'idea è di riprendere di cavallo. Tal continua lo sviluppo con alfiere D3. Hall gioca appunto cavallo F6, ma Tal qui non cattura il cavallo in F6, ma gioca cavallo G5. Una mossa aggressiva, perché attacca la casa F7, quindi già sta attaccando alla sesta mossa. Hall qui prosegue con una mossa logica, ma inferiore, non la migliore. Gioca a pedone H6, vuole cacciare via il cavallo da G5. La mossa migliore invece era a pedone E6. Invece così arriviamo già in un momento critico della partita. Tal qui non tira indietro il cavallo, ma continua ad attaccare. Gioca cavallo E6, mossa devastante. Qual è l'idea? Sta sacrificando un pezzo, perché se il nero cattura arriva alfiere G6, scacco matto. Quindi il nero non può catturare. Bene, allora Tal però sta attaccando la donna. Questo cavallo in E6 è pericolosissimo. Quindi Hall è costretto a spostare la donna. La sposta in A5, dà scacco. Sembra una buona mossa, ma non è una buona mossa, neanche questa. Perché? Perché Tal può continuare lo sviluppo. Quindi sviluppa un pezzo, ovvero l'alfiere. Guadagna un tempo sulla donna. Ora il nero è costretto nuovamente a spostare la donna. Hall la sposta in B6. Tal qui lascia ancora in presa il cavallo in E6 e gioca a cavallo F3. Un pazzo. Lascia in presa il cavallo in E6, lascia in presa il pedone in B2. Tutto ciò che interessava a Tal era di sviluppare i pezzi e di attaccare il re dell'avversario per dare scacco matto. Tra l'altro qui sta facendo di tutto per sviluppare i pezzi e per mettere il re al sicuro. Qui segue pedone per cavallo. Ora però Hall cattura perché era un pezzo in presa. Perché non prendere quel cavallo? Tal però è ciò che voleva. Lui sacrificava molto volentieri questi pezzi. Alfiere G6 scacco arriva. Il re sotto scacco si deve muovere. Unica casa re D8. Benissimo. Tal qui perderà tempo a difendere il pedone in B2 secondo voi? Assolutamente no. Decide di mettere il re al sicuro con Arroc. Questo era il suo modo di giocare. Era un modo di giocare singolare. Cioè solo lui giocava a scacchi in questo modo. E ad alti livelli. Perché Tal giocando a scacchi in questo modo è arrivato a diventare campione del mondo ragazzi. Attenzione. Cioè non è uno qualsiasi che si mette a giocare così fa qualche vittoria in qua e in là. No no. Lui campione del mondo. Il suo stile di gioco era proprio questo. Hall qui non cattura il pedone in B2 ma gioca a pedone in C5. Tal continua con pedone in C4. Figuriamoci se Tal cattura. Tal fa i suoi interessi. Gioca a pedone in C4. Occupa il centro. Controlla la casa di C5. Hall continua con pedone per pedone. E ora Tal chiaramente cattura questo pedone. Mette un pezzo in presa. Ma è realmente in presa? No. Perché dopo donna per segue alfiere a 5 scacco. E il nero perde la donna. Quindi questo cavallo in realtà non è sotto attacco. Hall lo sa perché è un giocatore forte. E continua con pedone 5. Con questa mossa attacca il cavallo. E Tal qui di nuovo gioca a una mossa assurda. Se giocavi contro Tal non ti faceva capire niente. Fin dall'inizio qui il nero non riesce mai a entrare in partita. Guardate Tal cosa gioca. Tal gioca a pedone C5. Lascia il cavallo in D4 in presa tranquillamente. Mette un pedone in presa in C5. Il pedone può essere catturato no? Però è una mossa molto forte. E il nero lo cattura. Quindi mette a rischio il re. Vediamo invece se non catturava. Ad esempio se la donna viene via no? Cosa succede? Arriva alfiere a 5 scacco. Dopo donna per alfiere. Cavallo e 6 scacco matto. Oh mio Dio. Davvero micidiale. Tal era un extraterrestre. Guardate cosa andava a calcolare. Quindi. Questo pedone. Allora cosa facciamo? All lo cattura. Ora il re è in pericolo effettivamente. Tal come prosegue? E gioca lo stesso. Alfiera 5. Figuriamoci se Tal non aveva visto alfiere a 5. Ma che mossa è? È una bella mossa. Attacca la donna. Minaccia scoperte. E il tema è lo stesso di prima. Sulla cattura arriva scacco matto in 1. Con cavallo e 6 scacco matto. Perché è doppio scacco. E il re non può andare da nessuna parte. Quindi. Allora. All continua con pedone per cavallo. Lascia la donna in presa. La donna è anche inchiodata. Tal cattura di donna in D4. Da scacco. Arriva cavallo D7. Alfiere per B6. Pedone per B6. Che cos'è appena successo? E beh. Tal ha guadagnato la donna. Però è pur vero che il nero ha 3 pezzi leggeri per la donna. Quindi non è un problema a livello materiale. Ma. I problemi del nero qui derivano dalla posizione del re. E anche dallo sviluppo dei pezzi. Perché i due alfieri stanno dormendo. Le due torri stanno dormendo. Il re si trova al centro. O mio dio. Non vorrei essere il nero qui. Poi giocare contro Michael Tal questa posizione. Roba da pazzi. Tal gioca a torre C1. Torre su colonna aperta. Vuole attaccare. All prosegue con E5. Attacca la donna. Tal sposta la donna in C4. Vedete. Vuole entrare in C7 appunto. All glielo impedisce. Gioca alfere C5. Sviluppa un pezzo. Tal continua con torre D1. Tal voleva mettere tutti i pezzi in gioco. Lui non lasciava mai pezzi indietro. Per lui tutti i pezzi dovevano giocare. Dovevano essere attivi. Voleva ottenere il meglio. Da ogni singolo pezzo. Qui cosa succede? All continua con torre F8. Attenzione. All ha il coraggio di contrattaccare. Attacca F2. Ma è in tempo. Direi proprio di no. Tal continua con pedone B4. Attacca l'alfiere. L'alfiere si sposta in D4. E qui arriva un'altra delle sue mosse. Mikhail Tal ragazzi. Semplicemente Mikhail Tal. Gioca torre per alfiere in D4. Sacrifica la qualità. Tal sacrificherebbe tutto. Pure il re si metterebbe a sacrificare. Ok. E che succede qui? All decide di abbandonare. Una partita strepitosa. Arte pura. Una partita proprio stellare da parte di Tal. Perché All abbandona? Perché magari potrebbe non essere chiaro qui. E beh. Dopo pedone per torre. Guardate cosa succede. Tutto forzato. Guardate. Donna C7 scacco. Il re ha solo una casa. Quindi il re 7. Torre 1 scacco. Il re non ha case. Quindi deve per forza... Il nero deve per forza spostare il cavallo. Arriva torre per cavallo scacco. Il re ha solo una casa. Donna in D6 scacco. Il re ha solo una casa. Ovvero qui in G5. E ora arriva pedone H4 scacco matto. Bellissimo direi. Le partite di Tal sono sempre molto interessanti e belle da vedere. Questa proprio è stata una partita a senso unico. Come il suo stile di gioco. Anche il suo stile di gioco era proprio unico. Veramente unico. Perché lui giocava in questo modo contro i grandi maestri. Ripeto. Non contro i giocatori da bar. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti per la visione di questo video.